Allora, hanno liberato i cavalli, siamo alla rotonda del Mammut e come sgroppettano. Quelli che vedete in questo video che sta facendo il giro dei social sono alcuni dei cavalli che ieri hanno mandato in tilt la circolazione ferroviaria sulla Roma-Isernia. A briglie sciolte, scappati da qualche recinto, hanno percorso senza alcuna difficoltà la strada dalla rotonda dell'uscita Santo Spirito fino ai binari che insistono a pochi metri dal passaggio a livello di Santa Capito. Una invasione molto pericolosa che ha costretto gli agenti della Polfer ad un lavoro straordinario fino a tardasera. Le conseguenze sono state pesanti, ritardi di quasi in ora per le ultime corse della giornata ed in un caso anche la soppressione di un treno, con i pendolari diretti a Isernia a Campobasso tornati a casa a tardasera con i bus sostitutivi. Non bastavano i guasti e i treni a mandare su tutte le furie i passeggeri molisani che hanno atteso circa tre anni la riapertura dell'Isernia a Roccaravindola. Ora ci si mettono anche gli animali sui binari. Quello di ieri non è nemmeno il primo episodio in questi ultimi giorni sul tratto ferroviario da Roma a Isernia. Il 13 marzo scorso alcuni cinghiali sui binari furono investiti da un treno all'altezza della stazione di Roccasecca. Ma la presenza di animali in giro per la provincia di Isernia è questione ormai nota, che spesso viene immortalata con i telefonini da residenti increduli, davanti a scene come quelle dei cavalli a briglie sciolte. In questo video postato da alcuni cittadini allarmati si intravedono quelli che dovrebbero essere due esemplari di lupo appenninico, a Zonzo senza alcun timore, per le strade di Santa Capito.